Buongiorno Friuli e buona domenica. Domenica 29 ottobre. Noi siamo pronti per la nostra rassegna stampa e come sempre vogliamo iniziare questa nostra prima diretta del mattino con una bella immagine che ci arriva da una delle webcam che troviamo sul territorio del nostro Friuli Venezia Giulia. La webcam che ci mostra il paese di Ligosullo in questo momento in montagna ci sono 4 gradi e 5 decimi a Tolmezzo, 5 gradi e 3 decimi a Tarvisio e anche sul Monte Zoncolan, 5 gradi e un decimo sul Monte Lussari. A Pordenone 5 gradi e 2 decimi a Gorizia 9 gradi e 8 decimi a Udine 7 gradi e 8 sulla costa andando a Trieste vediamo 14 gradi e 4 decimi. La giornata di oggi proseguirà con cielo in genere variabile per nubi a quote medio-alte più spesse sull'area alpina. Soffiera vento da sud ovest moderato sulla costa sostenuto in quota. Dal pomeriggio tendenza a una schiarita e soffierà vento da nord ovest sostenuto sui monti in quota più forte al confine con l'Austria. Le temperature oggi raggiungeranno le massime di 15-18 gradi. Con l'aiuto della regia vediamo anche le previsioni del tempo per la giornata di domani. Andiamo allora sul sito dell'Osmer Arpa e vediamo quali sono le previsioni per lunedì. Cielo in prevalenza sereno su tutta la regione. Al mattino sulla costa soffierà bora moderata. Sui monti vento da nord ovest moderato in quota. In serata farà più freddo. In arrivo quindi un abbassamento delle temperature per i prossimi giorni. Vediamo minime di 3-6 gradi domani in pianura. Dal meteo alla viabilità. Un salto veloce sul sito infotraffico di Autovie Venete per vedere qual è la situazione in tempo reale. Andiamo a vedere la consueta cartina che ci mostra i cantieri in corso sulla 4 per la realizzazione della terza corsia. Dopo le chiusure che ci sono state nella notte al momento non ci sono altri eventi. particolari da segnalare. Quindi traffico sostanzialmente regolare. E ora possiamo iniziare la nostra rassegna stampa dalle prime pagine dei quotidiani nazionali. Ecco vediamo assieme alcune prime pagine. Ingrandiamo subito la prima del Corriere della Sera. In apertura c'è la politica con la conferenza programmatica del Partito Democratico. Il titolo Gentiloni preme su Renzi. Il premier chiede un cambio di linea sulle alleanze con centro e sinistra. Si vince ha detto Gentiloni. I dubbi del segretario Dem il 4 marzo data probabile per le politiche. E il governo chiede subito lo ius soli. Si fa intenso il dibattito dentro il Partito Democratico. Dalla conferenza programmatica di Napoli c'è l'invito del premier Gentiloni al segretario del partito Renzi ad allargare la coalizione. Un assetto largo aperto al centro e a sinistra. Un assetto il più largo possibile. Ed anche il ministro della giustizia Orlando invita il PD a guardare al centro e a sinistra. Renzi smorza le polemiche sul caso Banca Italia con Gentiloni. Il PD è casa sua, dice Renzi. Si fa sempre più probabile la data del 4 marzo per le elezioni. Il ministro degli interni Minniti torna a chiedere l'approvazione dello ius soli. E poi vediamo sempre nel taglio alto del Corriere della Sera il caso Torino dove si è rimesso il capo di gabinetto del sindaco Appendino dimissioni per multa. È uscita un'intercettazione in cui il capo di gabinetto chiedeva appunto la cancellazione di una multa a un amico. Le parole del sindaco prevale l'interesse della città. Andiamo a centro pagina e vediamo questa foto notizia che ci dice Stati Uniti Corea la guerra è sempre più vicina. Gli esperti avvertono che il punto di non ritorno si sta avvicinando e un conflitto tra Stati Uniti e Corea del Nord avrebbe conseguenze devastanti. Migliaia di morti e il coinvolgimento della Cina. Ma proprio con Pechino e Mosca è in corso un dialogo serrato. E vediamo infatti il lavoro della diplomazia per evitarla, per evitare la guerra, il ruolo di Cina e Russia. Torniamo in Italia. Andiamo di spalla. Ancora il dibattito sull'innalzamento dell'età per andare in pensione. Pensioni a 67 anni. Piano per esentare 11 categorie. Tra queste maestre di nidie materne, infermieri, macchinisti, camionisti, muratori, facchini e badanti. E poi ancora una notizia nel taglio alto del Corriere della Sera sulla quale ritorneremo magari anche più tardi. I videogiochi ora sono uno sport ma è giusto. Questa è la decisione del CIO. Una decisione che ha aperto ovviamente un dibattito. La decisione è stata presa dal Comitato Olimpico in previsione di entrare a far parte dei giochi. A patto che vengano rispettati determinati requisiti. Ma ricorda lo psicoterapeuta Scaparro, l'essenza dello sport è combattere la sedentarietà. Andiamo su Repubblica. Andiamo a vedere il titolo di apertura dedicato in questo caso al caso di Torino. Il caso Appendino fa tremare i 5 stelle. Pace armata poi nel Partito Democratico. a Torino si dimette il braccio destro della sindaca. Gentiloni in media con Renzi, Minniti subito. Lo Ius Soli. E ancora andiamo a vedere anche questa foto notizia che ci arriva da Aracca, Diario di un Italiano. Così abbiamo cacciato l'Isis, la cronaca della liberazione. Nelle pagine interne abbiamo tutto l'articolo. E poi vediamo anche quest'altro titolo in prima pagina sulla Repubblica che ci porta in Spagna. Soraya, la nemica dei catalani, prende il potere a Barcellona. È stata nominata dal governo centrale, inviata da Rajoy Puigemont. Parla di resistenza passiva. Ancora scorriamo le prime pagine dei quotidiani nazionali e andiamo sulla stampa. Ecco il titolo di apertura. Torino, nuova crepa. In casa, Movimento 5 Stelle. E poi vediamo nel PD. Ci prova Minniti. Ora Unità. E anche sulla stampa a centro pagina. Il Cio, sdogana, i videogiochi sono uno sport. Andiamo anche sulla prima del giornale. Anche in questo caso in apertura le dimissioni del capo di gabinetto della sindaca Appendino. Onestà tra l'alla, titola il giornale. Cinque stelle cadenti. Il braccio destro dell'Appendino toglie una multa all'amico. Altra figuraccia grillina. Il governo non molla gli ussoli entro la fine della legislatura. Questo era il giornale. Andiamo adesso anche sulla prima pagina di Libero. Il titolo di apertura. Pioggia di soldi su Banca Italia. Promossi oltre 1700 dipendenti. Dopo la conferma di Visco premiati 339 direttori, 888 consiglieri e 479 esperti. L'avanzamento di grado però non è in base al merito. Gli interessati lo scoprono da internet. Ecco la vera autonomia di via nazionale, scrive Libero, quella di incassare in libertà. Chiudiamo libero? Andiamo anche sulla prima pagina della verità. Il titolo di apertura ci parla dei soccorsi da parte delle ONG in mare, i soccorsi ai migranti. La verità scrive, leggete qua che roba, è il tarrifario dei bonus alle navi umanitarie che portano immigrati. Un fisso per chi sale sulla flotta delle ONG. Più 50 euro per ogni salvataggio. L'ennesima conferma che i sedicenti volontari battono il Mediterraneo per un solo motivo, mettersi in tasca dei soldi. E poi ancora andando a centro pagina, la guerra di Spagna si combatte in Italia. Turismo, fisco, imprese. Chi rischia di più con l'addio della Catalogna? Intanto la SEAT pensa di spostare la sede. Chiudiamo anche questo quotidiano e andiamo a vedere, come ultimo quotidiano nazionale, la prima pagina del manifesto, la foto di Gentiloni e Renzi in primo piano, sotto ufficiale Gentiloni, titola il manifesto. Alla conferenza programmatica di Napoli un PD lacerato mette in scena una pace inesistente. Gentiloni ingoia lo schiaffo del CDM sul caso Visco, disertato dai Renziani e corre a omaggiare il segretario, il capo Sei Tu. Ma in attesa del voto siciliano, il partito precipita nei sondaggi. Questa è la nostra carrellata veloce sulle prime pagine dei quotidiani nazionali. Adesso andiamo a vedere come aprono i quotidiani locali, Messaggero Veneto, Piccolo e Gazzettino. Ecco la prima pagina del Messaggero Veneto di Udine. In apertura il tema delle tasse. Ecco la stangata d'autunno. Il Friuli sborserà 1,1 miliardi, corsa a ostacoli per le scadenze. Il mese di novembre, si sa, è il mese in cui soprattutto gli imprenditori sono chiamati a pagare il maggior numero di tasse. Stangata d'autunno per i contribuenti Friuli Venezia Giulia, ingorgo di adempimenti fiscali. A novembre, versamenti per 1,1 miliardi. Dagli acconti IRPEF, IRE, IRAP e IRES all'IVA. La corsa a ostacoli delle scadenze e poi vediamo in questo box tutte le tasse da pagare in questo mese di novembre e poi vediamo anche quest'altro grafico che ci mostra il gettito erariale mese per mese. Vediamo appunto che il mese di novembre è proprio quello in cui c'è un maggior gettito fiscale per lo Stato. E intanto parte la rottamazione bis per le multe e i tributi non versati. L'Agenzia delle Entrate ha emesso le regole per aderire alla conciliazione. riguarda gli accertamenti di quest'anno, prova d'appello per i respinti 2016, ovvero per quelli che non hanno potuto accedere alla rottamazione lo scorso anno. Torniamo in prima pagina, andiamo a vedere anche le altre notizie, a cominciare dalla politica. L'annuncio del sindaco di Udine, lascio a gennaio, mi candido in regione. Anno nuovo con cambio della guardia a Parazzo d'Aronco. Il primo gennaio il primo cittadino, Furio Onsel, rassegnerà le dimissioni e passerà il testimone al suo vice, Carlo Giacomello. Onsel si prepara a correre alle regionali e per questo sta lavorando alla costituzione di un movimento civico di sinistra affine al movimento di Pisapia. E allora andiamo a sentire l'intervista che abbiamo realizzato anche noi, che ha realizzato Monica Nardini, proprio al sindaco Onse. Vediamo. Sto adoperando e ci stiamo lavorando a costruire una lista di sinistra, una lista civica di sinistra che possa appunto presentarsi alle regionali. Per questo motivo io devo dimettermi dalla legge tre mesi prima di quella che era l'entrata del Consiglio regionale nella precedente legislatura, che sarebbe il 21 gennaio. Però perché diventi efficace la dimissione di un sindaco, deve darle sostanzialmente 20 giorni in anticipo. Poi ci sono questi 20 giorni in qualche modo di limbo e quindi questo viene essenzialmente a cadere il primo gennaio. L'obiettivo è soprattutto cercare di vincere come una sinistra, il valore dell'unità è sempre stato per me un valore primario, il contributo sono passate penso le stagioni anche dei personalismi, il percorso che abbiamo fatto di dieci anni di gestione direi di questa città all'insegna di quello che è l'impegno civile, di quello che è appunto anche un impegno di costruzione di una comunità, fa sì che in questo momento si debba cercare di costruire questa lista civica che porti il senso appunto del civismo in Regione per costruire poi una coalizione. Adesso in questo momento è troppo presto per dire come sarà articolata questa coalizione, ma certamente non ci sono delle pregiudiziali, ci possono essere primarie o si può anche correre diciamo in altro modo. Rispetto anche al Consiglio Comunale, a tra virgolette la Regenza, come si procederà? Ma qui tecnicamente appunto per i 20 giorni di gennaio sarò ancora io sindaco, però non potrò diciamo tecnicamente fare degli atti ufficiali e poi dopo sarà il vice sindaco che accompagnerà il Comune fino alle elezioni e quindi di fatto non ci sarà un nessun, si potranno continuare un pochino tutte le politiche che noi abbiamo avviato, quindi di fatto per i cittadini non cambierà diciamo molto. Questa è l'intervista al sindaco Onsel che ha confermato quindi le sue dimissioni per correre alle prossime elezioni in Regione. Uno dei titoli sulla prima del Messaggero Veneto, andiamo a vedere anche gli altri. Un passaggio sulla fotonotizia, la scoperta della Casa Museo Cavazzini, un'iniziativa del Messaggero Veneto. Vediamo questa bella foto di una delle sale del Museo di Casa Cavazzini. Di spalla invece Cavarzerani stop al bando per la gestione dei profughi. E questa è la notizia che troviamo in primo piano sul fascicolo di Udine del Messaggero Veneto. Lo ricorderete nei giorni scorsi la prefettura aveva pubblicato un bando da 10 milioni di euro per la gestione dei servizi di accoglienza alla Cavarzerani, un bando che aveva suscitato tante polemiche. Il prefetto sospende la gara per effettuare una serie di verifiche giuridico-amministrative. Andiamo allora a leggere l'articolo di Giacomina Pellizzari che scrive a seguito di alcune richieste di chiarimento pervenute da parte di soggetti interessati, richieste meritevoli di approfondimento, nonostante il carattere di urgenza della procedura si rendono necessarie alcune verifiche giuridico-amministrative sull'impianto di gara. Conseguentemente la procedura viene sospesa per 30 giorni. Questo l'avviso pubblicato sul sito della prefettura venerdì sera. Si teme il rischio di ricorsi, soprattutto per quanto riguarda il prezzo a base d'asta del primo lotto, considerato dagli operatori del settore troppo basso, a meno che a vincere l'appalto non siano le cooperative di tipo B autorizzate a usare nella gestione dei centri di accoglienza anche i volontari. Stiamo parlando di un valore di circa 10 milioni di euro. Quindi per evitare poi una serie di ricorsi il prefetto ha deciso di sospendere il bando e dare il via a una serie di verifiche proprio giuridico-amministrative sul bando stesso. Voltando pagina andiamo a leggere alcuni articoli di cronaca. Si parla di furti, scorribande notturne da parte di bande di ladri. Questo è un primo articolo e ci riferisce di una serie di furti in via nazionale. La metà preferita, scrive il messaggero, ennesima prova la scorsa notte da Autostar. Scorribande friulane dei pendolari di furti. Ecco, ancora alcune immagini dei riprese dai circuiti di videosorveglianza delle varie realtà presenti appunto soprattutto nella zona di via nazionale. Questo è un primo articolo, andiamo a vedere anche un altro che ci riferisce invece di una banda di ladri che è stata fermata dai carabinieri di Palmanova. Colpi in 80 case, sgominata la banda, indagine dei carabinieri di Palmanova. Nei guai tre rumeni, uno ancora ricercato, accusati di razzie nel nord Italia. Si era specializzata nei furti in abitazione mettendo a segno in poco più di tre mesi quasi 80 colpi in una larga porzione di nord Italia. Allora andiamo a vedere il servizio che abbiamo realizzato anche noi, che ha realizzato Davide Zanirato e che ci riferisce i dettagli di questa operazione. Vediamo. La banda si muoveva esclusivamente in autostrada. Un componente del gruppo alla guida del mezzo accompagnava il complice lungo la tratta. Lo faceva scendere in una piazzola di sosta in un'area di servizio sempre diversa e proseguiva il percorso allontanandosi anche per più di 100 chilometri. Il ladro scavalcava la recinzione, attraversava i campi, compiva i furti nelle case, spesso con i proprietari all'interno e poi compiva il percorso a ritroso dove, in un punto e ad un'ora concordata, l'autista tornava a riprenderlo. È così che agiva la banda dei malviventi rumeni, sgominata dai carabinieri della compagnia di Palmanova diretta dal capitano Stefano Bortone. Tre, i cittadini romeni domiciliati nella zona del Lago di Garda, ritenuti gli autori di 78 furti in abitazione compiuti tra la fine di gennaio e il primo maggio di quest'anno in tutto il nord Italia e in particolare nella bassa friulana. L'operazione Highway, così denominata per il fatto che la banda si muoveva utilizzando esclusivamente l'autostrada, si è conclusa ai primi di ottobre con l'emissione di due ordinanze di custodia cautelare. Il terzo complice, di 41 anni, è ancora ricercato. Nei suoi confronti verrà chiesta l'emissione di un mandato di arresto europeo. Sempre i carabinieri, ma della stazione di Campo Formino, hanno invece identificato e arrestato un uomo residente all'Estizza, di 42 anni, ritenuto responsabile della coltivazione di piante di canapa indiana in un terreno incolto della zona. Dalla perquisizione domiciliare, i militari hanno scoperto e sequestrato 680 grammi di marijuana. E ancora per quanto riguarda la cronaca, andiamo a vedere anche quest'altro articolo che ci riferisce di una frana che ha interrotto la circolazione nella giornata di ieri per alcune ore a Forni a Voltri, sulla strada regionale 355. Frana a Forni a Voltri, case evacuate. Venerdì il forte vento ha sradicato alberi e causato lo smottamento. Quattro famiglie allontanate. E c'è l'appello alla regione da parte del sindaco di Rigolato che dice sulla 355 è a rischio la sicurezza pubblica. Chiudiamo adesso il messaggero veneto di Udine. Andiamo a vedere ancora un articolo nel taglio basso, un articolo che ci porta nelle pagine della cultura. Un articolo di Gian Mario Villalta che dice Creiamo a Cassacco la casa della poesia. L'appello per preservare le opere di Pierluigi Cappello, scomparso qualche settimana fa. E poi il messaggero veneto ci ricorda sempre nel taglio basso che è ritornata l'ora solare. Vi siete ricordati di spostare le lancette dell'orologio indietro di un'ora? Ecco qua, ve lo ricordiamo. Anche noi. Adesso sì, andiamo sul messaggero veneto di Pordenone e andiamo a vedere qualche altra notizia, a cominciare dalla foto, notizia che troviamo a centropagina. In arrivo gli steward urbani, polemica sui costi a Pordenone. Ecco l'immagine che troviamo sulla prima pagina del fascicolo di Pordenone. Sicurezza e Decoro, progetto steward urbani, battaglia politica sui costi. Conficoni del Partito Democratico dice per due mesi 38 mila euro a carico sempre delle partecipate. L'assessore Loperfido, progetto innovativo, società interessate ad aderire. Deve ancora partire, ma è già battaglia sui costi. Mentre la Prefettura ha sostanzialmente dato il via libera al progetto di steward urbani, in seno al Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, due giorni fa, sono stati affinati alcuni aspetti. Il capogruppo del PD, Nicola Conficoni, apre il fronte sulle politiche della sicurezza. E poi, appunto, abbiamo tutto l'articolo. Vi segnalo ancora un articolo sulla prima pagina del Messaggero Veneto, sia di Udine sia di Pordenone. Nel taglio alto si parla di un'iniziativa avviata da una cooperativa di Cercivento, la Taviele, che si occupa della coltivazione di erbe officinali. Copa Cercivento, rilancio della montagna, coltivando le erbe. Ecco l'articolo e poi, appunto, nelle pagine interne abbiamo tutto l'approfondimento. Cambiamo quotidiano adesso. Andiamo sulle pagine del Gazzettino. Il Gazzettino che apre, per quanto riguarda la prima pagina nazionale, con la conferenza del PD, Gentiloni e Renzi, prove di pace. L'abbiamo già visto. E poi, ancora, andiamo a vedere anche questa fotonotizia che ci porta in Spagna, a Girona, in particolare nel fortino dei ribelli, scrive il Gazzettino. Il Covo, Puigdemonta, passeggio con la moglie a Girona. La cittadina è il fortino dei secessionisti, scrive il Gazzettino. Dopo che, come sappiamo, Madrid ha destituito i vertici catalani. Ancora, sempre sulla prima pagina del Gazzettino, vaccini in Veneto, dal 31 o multe in arrivo. Entro martedì i genitori dovranno consegnare alla scuola la certificazione rilasciata dall'azienda sanitaria. Andiamo adesso nelle pagine interne. Andiamo sulla prima pagina del fascicolo dedicato al Friuli e vediamo le notizie principali. Profughi a Udine, bando sospeso, come abbiamo letto anche sul messaggero Veneto. Accoglienza alla Cavarzerani alla Friuli, rischio di base d'asta troppo bassa per il lotto più importante. La prefettura quindi lo ha bloccato per 30 giorni in attesa di ottenere un parere dall'avvocatura di Stato. Ancora furti in casa e negozi, sgominata la banda. Polizia di Udine, favoreggiamento della prostituzione, 33enne nei guai, è stata arrestata dalla polizia. A centro pagina vediamo ancora le proteste di tanti comuni contro le UTI. No alle unioni mandate i commissari. Si riaccende la battaglia dei sindaci ribelli. Sono 56 i comuni che non vogliono aderire alle unioni territoriali. Dopo le due sentenze di venerdì scorso, le sentenze delle TAR sull'uscita dalle unioni comunali di Paolaro e Bertiolo, i sindaci ribelli provocano la regione a mandare i commissari. In tutto sono 56 le amministrazioni appunto contrarie alle UTI. Ancora, vediamo anche sul gazzettino, Onsel verso le dimissioni a Capodanno. E poi ancora referendum per la fusione di alcuni comuni. Cinque paesi tentano le nozze. Dopo il teso via libera per le nozze tra Fiumicello e Villa Vicentina, nuovo doppio appuntamento in regione per il referendum di fusione tra comuni. Stavolta toccherà a cinque paesi della Carnia chiamati alle urne. Oggi da un lato Villa Santina, Lauco e Raveo, tre comuni per complessivi 3.343 abitanti. Dall'altro Treppo Carnico e Ligosullo, in totale 851 abitanti. E poi nel taglio basso il talismano Perizza per battere la Dea. Tra poco approfondiremo bene tutte le notizie sportive nel corso della nostra rassegna dedicata proprio allo sport per quanto riguarda gli spettacoli. La musica di Warhol secondo Nicchiarelli si intitola Nico 1988 ed è stato sannato al Festival del Cinema di Venezia dove ha trionfato nella sezione Orizzonti. Il road movie di Susanna Nicchiarelli approda domani al Visionario e al Cinema Zero. E poi vediamo anche qui la casa di cappello a Cassacco di Venti, cenacolo della poesia. Questo è l'appello dell'amico e poeta Gian Mario Villalta. Andiamo anche sulla prima pagina del piccolo, il piccolo di Trieste innanzitutto. Ecco il titolo di apertura. Stop Limu sui posti barca a Trieste. L'Agenzia delle Entrate evita la nuova tassa a 10.000 diportisti. E poi tornando alla politica vediamo sul piccolo la sfida di Jacop a Bolzonello, mi candido alle regionali. Per quanto riguarda lo sport nel taglio alto solo un pari al Rocco. La Tristina ha pareggiato 1 a 1 contro il Sant'Arcangelo. L'Unione senza ritmo non fa il bis di Vicenza. E poi nel basket c'è Bologna, mezzogiorno di fuoco per l'Alma. Trieste. Andiamo anche sul piccolo di Gorizia per chiudere questa nostra prima parte di rassegna stampa. C'è ancora il tema dell'accoglienza dei migranti in apertura. Ziberna dice no ai migranti nel convento Veto sul trasferimento dalle Orsoline. Ziberna dice evitare un nuovo Nazareno. Il sindaco vuole che questi migranti lasciano la città di Gorizia. Per quanto riguarda la cronaca sul piccolo vediamo di spalla anche un grave incidente stradale avvenuto a Romance, scontro moto trattore grave, un gradiscano. Queste le notizie principali sulla pagina del piccolo di Gorizia con la quale chiudiamo questa nostra prima parte di rassegna stampa. Adesso prima di passare allo sport andiamo a vedere con l'aiuto della regia il box che ci riassume gli appuntamenti principali di oggi su Udinese TV. Oggi è domenica quindi si comincia alle 14 con la diretta studio e stadio per seguire assieme la partita fra Udinese e Atalanta. Poi il basket alle 18, la diretta della partita tra Orzinuovi e GSA Udine e poi alle 22.30 a Fermana contro Pordenone. La partita che vedrà impegnati questo pomeriggio i Neroverdi. Ovviamente come ogni domenica c'è anche il nostro Tg appuntamento alle 20.30 per tutti gli aggiornamenti di cronaca e di sport. E tra poco fare i puntati appunto sullo sport, prima però un po' di pubblicità.